Il decreto sblocca Italia e finalmente legge. Al Senato ha ottenuto la fiducia e il via libera definitivo con 157 sì e 110 no. Arriva dunque l'attesa conversione del decretone, che contiene misure che vanno dallo sblocco dei cantieri che partiranno con tempi certi, agli interventi per le calamità naturali, passando per le semplificazioni per l'edilizia, la banda larga e ultralarga, l'ammodernamento delle ferrovie e le concessioni autostradali. Fra le novità più attese, il pacchetto ribattezzato padrone in casa propria, via lo sconto del 20% fino a 300.000 euro per chi compra casa e l'affitta con un contratto di locazione a canone concordato per 8 anni, cosiddetto 3 più 2. Chiunque acquisterà entro il 31 dicembre 2017 un'abitazione a destinazione residenziale di nuova costruzione o d'oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, otterrà una deduzione fiscale dal reddito del 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di vendita, con il tetto massimo comunque di non oltre 300.000 euro. La stessa deduzione spetta anche per le spese sostenute per prestazione di servizi, per la costruzione di un'unità o immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.